In questo dodicesimo capitolo di Injustice, dopo aver fatto il minigioco e distrutte tutte le macchine, ora il nostro vero Superman sconfiggerà Black Adam della dittatura e toglierlo di mezzo? Noi dobbiamo finirla alla svelta, questa modalità storia. Ma guardate Superman com'è fortissimo e poi guardate che vista laser. Può sparare il laser dagli occhi, è la più forte di tutti, essendo un kriptoniano. Gabriel Oster non vede l'ora di fare questa esperienza kriptoniana. Se non l'avete notato, questo è il posto dove era Joker quando affrontava Batman e Harley. E Superman ha vinto contro Black Adam. E' riuscito a farcela. Io vi saluto, vi consiglio di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace e di commentare come sempre. Altri video vi aspettano, ma ricordatevi che la malvagità di Adam deve finire.